Il punto della settimana con Ersina Nobile, sindaco di Vieste. Primo argomento, l'aeroporto è stato portato in consiglio comunale, l'argomento però è stato sospeso. Ci saranno delle novità, prossimamente riporterete in consiglio questo argomento, ovviamente molto importante per la città? Sì, poiché ritengo che questo sia un argomento molto molto importante per tutta la collettività di Vieste, poiché avevamo due consiglieri nostri che purtroppo dovevano partire, lo sapevamo, alle 12 e mezza per Bari perché c'era il consiglio di amministrazione del Cotup. Al momento della votazione mi sono accorta che io preferisco, poiché è un argomento molto importante, avere almeno l'approvazione, cioè la presenza di tutti i membri della maggioranza e per cui ho sospeso l'aeroporto come ordine del giorno per ripresentarlo in una maniera ancora più aperta perché il cittadino deve capire qual è l'importanza dell'aeroporto e quindi di ridiscuterla anche con i capigruppi dell'opposizione facendo capire forse è stata poca o un'unica riunione con loro per cui ho preferito sospenderlo, riporto come ordine del giorno, solamente come un tema monotematico nel prossimo consiglio comunale. Un altro argomento importante sempre per quanto riguarda la comunità, i servizi sanitari. Dopo l'accorpamento dell'Aslunica per quanto riguarda tutta la provincia di Foggia in molte realtà spesso si lamentano carenza dei servizi. Ecco per quanto riguarda Vieste i servizi specialistici sono aumentati o c'è stato un po' di carenza soprattutto visto questo accorpamento? Allora io voglio fare un po' di chiarezza, certamente non posso applaudire al 100% alla sanità che abbiamo sul nostro territorio. Per quanto riguarda i servizi specialistici non sono diminuiti, c'è un leggero allungamento delle liste d'attesa che peraltro il Direttore Generale aveva solamente messo sul nostro territorio durante il periodo estivo più specialisti proprio sia per abbattere le liste d'attesa ma soprattutto per raccogliere i flussi turistici che noi abbiamo da giugno a settembre. Una volta finito quel periodo la nostra popolazione è di 15.000 abitanti per cui quelli che noi abbiamo ci bastano e avanzano. La carenza, se di carenza vogliamo parlare, è che noi non abbiamo specialisti che vogliono venire a Vieste perché la distanza è enorme. Per cui in questo periodo che cos'è che noi abbiamo? Sono i medici che lavorano negli ospedali che vengono sul nostro territorio soprattutto per quanto riguarda la cardiologia per cui abbiamo un leggero aumento della lista d'attesa per quanto riguarda gli ecocardiogrammi perché il cardiologo avviene ogni 15 giorni e l'urologo che invece di venire due volte a settimana avviene una sola volta a settimana per cui io cercherò di adoperarmi soprattutto su queste due branche specialistiche. Per il resto non mi sembra che non stia funzionando, funzioniamo perché anche io sono specialista dell'ASL per cui le liste d'attese sono contenute e ci adoperiamo tutti quanti affinché non ci siano queste preoccupazioni tra la gente. Io tengo a specificare che molte volte, anche se devo fare la polemica a livello sanitario, io le polemiche con l'ASL, con il direttore generale, le faccio internamente, cioè non le metto al di fuori perché credo che la sanità è un problema molto serio e quindi non vorrei né la strumentalizzazione né che la gente si preoccupasse che non ha quello che ha. Io sono sempre presente perché vivo sull'ASL, stocco l'ASL, per cui i miei movimenti ci sono e come se ci sono. Non credo che possa solamente per fare politica perché l'ho detto un'altra volta, noi amministratori amministriamo, noi che governiamo amministriamo, la politica la facciamo e non un'altra serie. Quindi se io dovessi strumentalizzare è chiaro che potrei fare chissà che cosa, ma siccome credo che la sanità è alla base un fatto molto serio, io non posso incutere terrore nei miei cittadini. Per cui me la vedo in silenzio, sicuramente se ci sarà qualcosa di portata enorme io cercherò di avvisare tutti quanti. Per restare in tema di sanità, l'unità di degenza territoriale nel nuovo piano regionale potrebbe forse prospettarsi come casa della salute, potrebbe avere uno sviluppo ulteriore proprio per quell'unità che potrebbe servire molto per la nostra comunità? Credo che potremmo prendere in considerazione questa tua domanda. Io il nuovo piano della salute lo volevo scaricare, però ancora non riesco a scaricarlo, ma avevamo già parlato con il direttore generale. Sono delle situazioni che sicuramente sul territorio potranno essere adottate e quindi porteranno ad una maggiore stabilità della nostra sanità. Un altro tema importante che ovviamente nelle prossime settimane diventerà cruciale con la scadenza è il bilancio di previsione per il 2008. Ecco, almeno nelle linee generali cominciate a farvi un'idea di che tipo di bilancio andrete a presentare. Soprattutto ci sarà aumento delle tassazioni per quanto riguarda i cittadini e soprattutto che capacità di spesa avrete per questo 2008? Allora, stiamo lavorando abbastanza, diciamo, da circa un mese sul nostro nuovo bilancio. Quest'anno noi non aumentiamo nessuna tassa, quindi ci manteniamo alla stessa maniera dell'anno scorso. Il nostro cruccio sarà la chiusura della discarica, per cui per il momento, siccome abbiamo questi otto mesi ancora, poi vedremo per la Tarsu l'anno prossimo che cosa scatterà. Per il momento è tutto alla stessa maniera. È chiaro che con i miei assessori le riunioni sono molto frequenti. Cerchiamo di portare avanti, almeno quest'anno, incominciamo perché quest'anno inizia proprio il nostro programma, quello che avevamo detto nel nostro programma, cioè cercare di rendere più fruibile la nostra città. E quindi io ho chiesto, in base al bilancio che noi abbiamo, di colpire gli obiettivi che non saranno assai, tre, quattro obiettivi, ma li dobbiamo portare a termine. Ultima questione che in questi giorni è venuta alla ribalta, la questione della raccolta differenziata dei rifiuti. Ci si aspettava un risultato notevole, invece a conti fatti ci siamo fermati all'incirca al 10%. Ecco, vi siete posti il problema di perché questo risultato sicuramente non è entusiasmante? No, non dico che non è entusiasmante. Il fatto che la nostra differenziata sia al 10% dipende da molti fattori, fra i quali la non pesata della differenziata da parte dell'altro soggetto che contribuisce alla differenziata, perché non segue un determinato ordine. Quindi, che ti devo dire, gli elementi di alluminio, di ferro non vengono pesati gradatamente e quindi sicuramente non sono stati riportati. Ci faceva notare il soggetto gestore che praticamente non è che noi non abbiamo aumentato la raccolta differenziata, ma sono aumentati i rifiuti. Per cui la raccolta differenziata, essendo aumentata i rifiuti, non è aumentata, cioè di conseguenza non è aumentata. Io vorrei fare anche presente un'altra cosa, perché io con i miei cittadini devo parlare. Questo sarà oggetto di tutta la campagna, di tutto quest'anno, perché faremo campagna sulla raccolta differenziata. O noi progrediamo sulla raccolta differenziata, o nel 2002 quei dubbi che io ho, perché se noi dobbiamo andare a conferire presso altre discariche, è chiaro che la tassa sulla Tarsu, sull'immondizia, io non la posso mantenere agli stessi livelli che abbiamo adesso. Quindi o noi ci armiamo di coraggio e riusciamo a capire che per la nostra città, ma come per le città di tutto il mondo, riusciamo a capire che cosa significa la differenziata e quindi dall'immondizia dobbiamo, sembra assurdo, ma dobbiamo ricavare le risorse che ci servono poi a noi per continuare a gestire la situazione, oppure i prezzi li eviteranno eccessivamente.